Notizie dal mondo Eni. 4 giugno. L'amministratore delegato di Eni incontra Faezal Serrai, capo del consiglio di presidenza del governo libico di unità nazionale. Si tratta della prima visita dell'amministratore delegato di Eni a Tripoli dopo gli eventi che portarono alla divisione del governo centrale nel luglio 2014. Eni collabora attivamente con la NOC per sostenere l'economia libica. 8 giugno. I ministri dell'istruzione e del lavoro, Stefania Giannini e Giuliano Poletti, firmano con l'Addieni, un protocollo di intesa per iniziative di integrazione scuola-impresa. Si tratta del primo accordo tra un'azienda e le istituzioni, dall'introduzione del Jobs Act e della legge sulla buona scuola, strutturato sugli istituti dell'apprendistato e dell'alternanza scuola-lavoro. Saranno oltre 1600 gli studenti coinvolti a livello nazionale. 9 giugno. Una nuova significativa scoperta a gas nel prospetto esplorativo Baltim Sud-Ovest, nella licenza Baltim Sud, nelle acque convenzionali del Delta del Nilo. Questa nuova scoperta è una ulteriore conferma dell'importante potenziale a gas della cosiddetta Great Nuros Area, che ora è stimata a contenere complessivamente circa 70-80 miliardi di metri cubi di gas in posto. 10-13 giugno. A Roma e Catania Load Sharing, targato Enjoy. Come annunciato a marzo, la New Sharing Experience di Ngoi prosegue, dopo Milano, sbarca nella Capitale il servizio che mette in condivisione gli scooter a tre ruote Piaggio MP3. Mentre Enjoy arriva per la prima volta al sud, a Catania, con il suo vehicle sharing. Sharing uguale condivisione. Nella città dell'Elefante, 200 tra auto e scooter in condivisione per i Catansi, i turisti e tutti gli utenti già iscritti. 21 giugno. Eni e il Fondo Americano SK Capital hanno convenuto di porre fine alla trattativa per la cessione di una quota di maggioranza delle azioni di Versalis S.P.A. avendo costatato l'impossibilità di trovare un accordo su alcuni punti negoziali tra cui, in particolare, la futura governant della società. Pertanto, dalla prossima semestrale, Eni tornerà a consolidare integralmente Versalis nei conti di gruppo. 21 giugno. Il ministro dell'Energia e il presidente di Sonatrack hanno incontrato l'Addieni. Firmato anche un accordo propedeutico all'estensione delle licenze produttive del giacimento rode di tre giacimenti del blocco 403. 29 giugno. Nuova partnership. Trenjoy e RDS 100% Grandi successi. Da oggi RDS, nota stazione radio che trasmette musica, diventa la radio ufficiale del servizio di car sharing di Eni. 5 luglio. Il presidente della Repubblica di Cipro incontra l'Addieni, Claudio Descalzi, che ha confermato l'impegno di Eni riguardo le attività esplorative nel paese e, in generale, nell'area del Mediterraneo orientale. 20 luglio. Esito arbitrato con Gas Terra. Sul prezzo del gas, non favorevole a Eni, che ritiene la richiesta di Gas Terra non fondata e promuoverà tutte le azioni a tutela della società. 25 luglio. Ampliato il protocollo tra i miei Ministeri Istruzione e Lavoro, con l'estensione dell'iniziativa alla Regione Basilicata e l'inserimento della Val d'Agri tra i siti oggetto del programma di formazione e lavoro. Il numero di studenti che potranno beneficiare delle iniziative legate al contratto di apprendistato di primo livello salirà da 135 a circa 175, mentre quelli che potranno usufruire dei progetti di alternanza scuola-lavoro sarà incrementato da 1500 a circa 2300. 27 luglio. Avvio di un procedimento giudiziario per attività a Saipem in Algeria. Eni ha preso atto che il nuovo Guppi incaricato del fascicolo ha inteso procedere al rinvio a giudizio anche per Eni S. Pa, che si ritiene estranea da condotte illecite e confida che ciò sarà accertato nel procedimento giudiziario. 29 luglio. Pubblicati i risultati del primo semestre del 2016 e varie dal CDA. Emersi con tutta evidenza i primi dati dell'effetto della diminuzione del prezzo del greggio. Il CDA ha approvato interventi sulla macrostruttura organizzativa della società in materia di sistema di controllo interno e gestione dei rischi, modifiche che andranno a compimento entro dicembre. Il CDA ha anche approvato l'addicendamento del proprio consigliere nel Comitato Controllo e Rischi, al solo fine di assicurare la massima tutela alla società dai rischi derivanti da possibili conflitti di interesse. 4 agosto la nuova era del greggio, l'Ukost. Segnaliamo a tutti i soci che desiderino una curata e sintetica informazione, di non perdere il numero 32 della rivista Oil, in particolare l'articolo di Ian Bremmer, il politologo americano, che tratta delle disruption energetiche ovvero dei contorcimenti economico-politici nei quali si dibatte il mondo energetico attuale. In particolare il paragrafo dove parla delle compagnie di Stato. 12 agosto riavviate le attività al centro olio Valdagri. A seguito della notifica di dissequestro definitivo, l'azienda sta procedendo al riavvio del centro olio Valdagri, Cova e alla progressiva riapertura dei pozzi di produzione collegati.